No, c'è due mandati... Aspetta, aspetta! Siamo pronti! Vaffanculo! Ecco bene, aspetta, aspetta! Ok, faccio la pancia. Ho già fatto partire? Sì, ho fatto partire il video. Unica cosa, guardiamoci tutte le presentazioni. Va bene, io già conto. No, pure io, cioè... Ma io già sto? Sì, scegli due oggetti oltre alla mitragliatrice. Mitragliatrice? Exogatling. Granata. Granata è buonissima. Piede la Granata perché ci sono le orde, eh? Granata, no. Che bello, mamma. Ah, sono Granata? Ah, io ho la mitragliatrice e Granata. Ottimo. Ah, vabbè, ok. Meglio che no? Sì, no, no, è ottimo. Ok, per me, ok. Oltre alle mitragliatrici ce l'ha scritto, mannaggia. Io già ce l'avevo la mitragliatrice. Dovevo prendere la pistola normale, che so. RIF, munizioni automatiche. Cambia oggetto. Ok, per cambiare oggetto bisogna fare così. Solo se equipaggiato. Questo invece chissà che serve. Ah no, con questo e questo cambi gli equipaggiamenti. E quindi con questo che devo fare? Niente, spari. Però aspetta, ecco, vediamo... Sì, sì, guardiamola... Avrebbero dovuto fare come al 4. Al 4 che gli zombie dovevano prendere e facevi così. Che bella. C'hai mai giocato te? Ah, a quell'altro. Al primo, mi pare. Io ho giocato assurdo. Sì, guardiamola. Oddio, pure l'aria. Ma questo qua devo controllarlo tutto perché a 10 minuti si ferma. Eccoli che entrano tutti. Ma... Un anno in 10 minuti? Eh? Un anno in 10 minuti? No, ma fa 10 minuti e poi devo ripremere il pulsaggio. Ma è una cavolata. Ma te ci vuole un secondo. Let's go! Ragazzi, di grafica è una cosa bellissima. Ok. Piori, dopo tanto tempo, riempoli. Ah, il ricarico automatico. Che bello! Mi raccomando, sempre edizione. Andiamo all'occhio. Occhio ai Cirini. Occhio ai Cirini, guarda. Oh! Proteggiamola. Non l'ho ammazzata uguale. Occhio. Ok, salta, salta. No. Io? Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta. Non hai capito tutto che salta a me. No. Ah, è vero. Sei io, cavolo. Scusami. Ecco perché non riuscirò a farlo. Oh! Eh, quindi cosa cambia? Oh! Ah, ti hai colpiti. Vabbè, ti hai detto qua, ti hai colpito in lei tanto. Scusami, allora. Aspetta. Trovo, 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 trovo con una granata. Ecco qua. C'è io, però c'è i due, da te. E' bello, ragazzi. Aspetta che ti aiuta. Vabbè, ragazzi, figliori. Fai cadere il lampadino. Figliori, grafica bellissima. Tutta un'altra cosa da quattro, eh. squadra. Ma no, ma sei io che carico. Non lo parli. Wow! Mamma mia, oh! I vizi non se lo so presi, eh! Sono vent'anni sempre con queste cavolo di alti! C'è stata uscire una granata! Scivolere? No, l'ho appena lanciata io Non vuoi, eccolo qua Sciugate per il lato Aspetta, lancia ancora una granata Ok, ottimo Che succede? Scusate io per taglio Brava Che bello io sono Io prendo a sparare Questo è ambientato tre anni dopo il suo altro Beh, Kate, ragazzi, c'è ancora il suo stile Che vuol dire Non lo spiegare a pagliare a Mazzagli E' brava, possiamo capire l'esco Scusate io per la scena Scusate io per la scena Aspetta, lancia una granata Ok Bello, l'edicottero è molto vero Sembrano tutti i venti È vero? Dai, no, mannaggia Quello da sotto Per questo Ok, ce l'ho fatta Oh no, dai, ragazzi Vabbè, spreghiamo l'ultimo fucile a poppa Vabbè, spreghiamo l'ultimo fucile a poppa Vabbè, spreghiamo l'ultimo fucile a poppa Vabbè, stagli Oh, finalmente, dai Ce l'abbiamo fatta No, ce l'andamo Eh, carla Sembrava troppo bello Ora le granate servivano Eh, ma io Come si mettono? Cambi arma con questo Ammaggia, perché ce l'avevo Scusate E' un uomo a cavoli vostri Yo, yeah Che rizzo Sei rimasta Una bella ragazza Che è di un tempo Poi è pure più bella Sono posta di tre anni Ma è ringiovanita E' strano E' strano, sì C'è una grandica carina Ok, il tempo è al collo Oh, ho di nuovo le granate Wow La cosa più bella in questi giochi Le granate Oh, ancora il signorino Quanto tempo Ottimo E possiamo ancora salvarli Quanto tempo che non salvavamo Che non trovavamo l'embrezza Di salvare le pensioni Occhio Brava la faccia Bravissima Eccolo Questo qua Stava il primo Che lo dovresti ricordare Ragazzi Oh Ah, gli è abbastanza Molti lo dovrebbero Ricordarselo Insiderino a scegli Oh Questo Oh Ah, ma Tu Ciao 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 E' abbastanza Perché non c'avevo più Perché non c'avevo più Questa bella atmosfera Il primo Silent Hill Come ti sei evoluto De auto Azzanendo Bello C'è un medici Per l'altro E sotto Aspetta Vita Bravissima Dai, bravissima Allora che succede? Guardate, sono cazzuti Ah, bene Qui cadremo pure ragazzi È molto molto bello Sì I dialoghi sono diventati Un po' più Stupinti Beh, ma la festa ha cominciato Oh, di nuovo in città Come al 2 Che bello Vediamo Adesso ci dovrebbe dare Una vita in più Ah, bene Comunque Tizia Tu per cambiare L'evoluzione Non ti preoccupare Che bello ragazzi Era molto molto bello Questo gioco Ed è rimasto ancora più bello Vi diamo il benvenuto Al Deus of the Dead Del 2019 Ora possiamo scegliere Le direzioni Vai tizia Vai, dove dovete fare È bello Mamma mia Che bello Ok, allora Scegliamo le armi Con le granate Mi sono trovato molto bene Allora scelgo Granate e lancia granate Credimi che per le orde È molto molto buono Infatti abbiamo già La mitragliatrice Giusto? Sì Infatti è inutile Che l'ho presa E l'ha nata curio Magari quando incontrami Boss pure Lancia razzi Eh, pure è bello O cannone d'energia Non lo so, sai Io un lancia razzi Vabbè, allora iniziamo Lancia razzi Dai, che tanto Mi sono preso Io lancia granate Aspetta Che bellezza ragazzi Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello Sono tanto contento Che abbiano continuato Questa saga È davvero Una pietra ai miliardi Della storia Dei videogiochi Sì È stata io Giocai undici anni fa Al primo Da quel momento Me ne sono innamorato Bello Perché 2000XX La storia è fatta È fatta sempre così Che ti dà i flashback Durante i livelli Eh, cazzo Ci comincia bene Eccoli là E andiamo Distruggi l'interruttore Oh, ok Di Dubito Che è andata Vedi Vabbè Giochiamoci Le coparsimonie Beh, però Se la durata Di un livello C'è quella di prima Non è tanto Sì Ma poi A parte che Quando muori Tra virgolette Ricominci Te ricarica Dole punizioni Quindi è perfetto Oddio Ancone questi Regano Da quanto tempo Che non li vedevo Oh I secondi livelli Sempre voi Se dovete Sai I secondi livelli Sempre voi Secondi livelli Sempre voi Secondi livelli Oh Che sono Ma fai fuori Quello che tira la cosa Oh Oddio questi Bastardi Bastardi Oh Oh Alma Oddio Ma che è Col come si Con la chitarra Brava Tizzi Ho una compagna Di gioco Veramente brava Sì È vero Vabbè Mamma mia Mamma mia Te fa venire ansia Ma sto giocando Oh no Questi No Brava Tizzi Brava Sto giocando Ma che sta venendo La time pricing Parazzo Il barca Non è neanche Ah no Scherzavo Suori oh la macchina fermate questa non me la ricordiamo possiamo sparare dal vidro che non c'è ma che proteste oh ma dai c'è le punizioni piene sto mangiando bene non avalgamati ma io sempre ok ok sono riuscito a capire che sono la femmina calma ragazzi state le carmelle no spara al bonus che cosa sta facendo una rama no voi ancora no non sapevo voi i dopini agli altri che mi hanno detto i merdi voi i dopini sono riusciti 4 secondi non è perci u brava 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 mand拿 Che cosa? Cofa, che gli ha fatto di male a me? Ah, finalmente, cominciamo a chiedervi dove eravate, ragazzi. Sì, erano un po' di anni che non ci vedevamo, eh? E non io. Che strozzo. Da per tutto il sole, questi. Guarda i bulloni che ti vuole per fare un po' molto bene. Molto bene, mamma mia questo. Ragazzi, se voglio... Oddio, ma si vede pure quando cascano. Ragazzi, guardateli mentre sono morti a terra. Madonna. Oh, trentici secondi, Matti. Eh, però fa' l'ora che ci fa spazio. Ok, ottimo, vai. Infatti, è nella storia. È fitto. Allora, ce l'avevo fatta, va. Ma che sta succedendo? Che è stato impazzato tutti. Eccolo il meglio. Eccolo il meglio. Guardate quello a destra, ve lo ricordate? E quello a sinistra. Madonna, regà, guarda, sta foto è come guarda... Che ne posso dire? Maradona, Ronaldo e Messi tutti insieme. Mistery Man è quello a cercare. Loro antenati. C'è un'organizzazione dei loro antenati tutti insieme. Vede sta foto? Ecco, ma che ne so. Fa' tornare indietro di tanti anni, sì. Me ne rendo colpa. Ma non c'è tempo da perdere. Signori, vediamo un po'. Diamo il benvenuto al primo boss del gioco. E' vero. Che è quello? Che è quello? Che è quello? Questi no, i nomi sono come quelli dei tarotti, eh? L'alta... L'alta sacerdotessa. Ma che bella che è. Ok, molto bene. Sembrano... Quest'anno sembrano un po' più cattivi, eh? Io... Io, signori, devo... Devo decisamente morire. Così avrò delle nuove munizioni. Ok, ottimo. Vai, vai. Ok, va. Signorina, noi questo andiamo fatto... Oddio, che bello, ragazzi. Mi ricordo una scena del 4. Stranamente mi ricordo una scena del 4. Com'è? Ma guarda, perché devo sempre finire qui? Ci dobbiamo sempre finire in queste infelle un po' male. La musica anche, sì? Un po' poco. Ok. Ecco. Ecco. Vai. Eh, ma non è... Ma non è andato bene. Ah, va. Stiamo a cercare di mirarlo. Stai. Ma non è andato così. Sì, no, è andato così, no? Sì, no, è andato così, no? Ah, no, 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 colpa mia. Porto, io ho deciso di pialla. Ma non beve, però, eh. Eh. Spara, spara, spara io una granata. Ok? Bravo. Grazie. Io sono inzuppato. Occhio che sta pronta è un po' pericolosa. Ma poi ce la prendiamo, ce la vediamo del genere da quando prendiamo la testa. Occhio che io... Io sono inzuppato è un po' pericolosa per la frase, eh. Quindi attenzione. Dai via. Ok. Ah, finalmente ho le granate. No, non ha fatto nulla. Beh, oddio, sì, già, dai, dai, ci può stare. Però, signori, non la stiamo scalfendo, eh. E quando si apre la stella da davanti, qua, qua, là sotto la pianta. Ok. Però la dobbiamo prima ammazzare ieri. Paranzetto. Ok. Non sta forse così. Non sta forse così. Stiamo forse. Sto all'incendiaria. Oh, ho cambiato io. Ah, no, spargiamogli così. Ma così, di colpo. Tre anni per ammazzarla e alla fine ce l'avevo fatta. Ah, perché dopo ce la ritrogliamo. Potrebbe essere così. Perché non ce la fa niente. E' tipo wild dog. C'è stato un'energia. E rincerà a fare alla fine. Questa foto, signori, è una pietra miliare, eh, signori. Torna. Ecco come si chiama la foto. Questo è dal 2002 che non lo vediamo. Dal 2002 al 2005. E finalmente, vediamo. Però stavolta, mondo del poverso. E' stato un po' di spesa. E' un po' di spesa. Però giustamente che va piano, qua, sanno, va lontano. E' lo stesso? Allora, adesso, atrio dell'ascensore, è bene, è annesso. Stavolta vogliamo cambiare, che stanno incendiando, io proverei con il lanciarazzi, il cannone d'energia, io e il carano d'energia, ci può stare. Il lanciarazzi, il carano è stato utile, voglio vedere il cannone d'energia, infatti c'hanno queste cose un po' strane. Futuristiche. Giustamente dopo aver visto il laboratorio lì sotto, vediamo intorno che cosa c'è e che cosa succede. Questo è sempre stato bello per chi che hanno la possibilità di scegliere, no? Cos'è questo flash? È bello. Gli esperimenti e cose. Bello, è stato molto molto bello. Perché è successo? Non lo so, io non l'ho toccato in cielo. Però tranquilla. Ah, perché si allarga. Ok, tranquilla, è ottimo. Figori, il vero spavento è stato questo. Nella funzione funziona. Va bene, rientriamo in casa e vediamo quello che succede. e stacca dentro qui. Ancora! Ancora sfidati! Oh! Oh mio! Oh! Oh mio! Oh! Poi abbiamo sbarato 800 volte. Porco! Ok! No! 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 Giustamente la casa degli orrori, mi sa che la bella casa degli orrori è questa, uno parla, è un misto tra The House of the Red 1 e il 3, ok brava, ora di utilizzare i dadling, molto molto bello, oh, no ma che cos'è? C'ho pensato io, in all'acqua dai, boys, pure io, non sono stato molto molto contento, però, oh, e questi sono di miei preferiti ragazzi, mi dispiace ma, loro non moriranno mai, Questo è questo, è a posto, ok, vediamo qui ragazzi, President Evil Sky, oh, Dem, dai, oh, è un bello, Eh, all'ultimo, è sempre bello, ora cambio oggetto, ok, ora abbiamo il fucile a pompa, guarda, è stato molto bello il fucile a pompa, devo dire, non vero mai dire, oh, non vero mai divertito con quello il fucile a pompa, eh sì, oh, vedi quello che vedo io? Vedo quello che vedo io, vedo quello che vedo io, allora, e se usassimo questo, beh, potrebbe essere una buona idea, eh? Ma pensa che è una persona sola? Si può andare in due? E lei ci va così? Certo, mica vola dietro? Vabbè, è un bel videogioco, penso che sarà il livello, ecco perché stava a cadere, ecco perché è usato molto figo ragazzi, Ragazzi, se l'avessero adottato, oh, se l'avessero adottato dai primi di auto off the dead, molti problemi sarebbero stati risolti, quindi ragazzi, trema tutto, trema tutto, signori, sapete che vado a dire trema tutto? Bello, signora, bellissima, oh, eh, calma, lo sapevo, spara e scondiamo, E andiamo, signorino, mi scusi però, eh? Beh, allora, che chiedo scudo! Seconda ragazzi, mi raccaderebbe solo qualcosa di me, da? E la fio? Al terzo piano del, madonna, la pension del, bentornati da Resident Evil, guarda, ragazzi, è Resident Evil 1, che si cambia con questi, se non sbaglio, era anche l'effettivo 1, eh? Sì? Se non vado errato! Ma qualcosa come si, vede? Dai, facciamo in entrano, tu, mi? Bravo! Verbo, mi è staccato, vai, vai, ecco qua, raga, la grafica ci sta, eh? Oh! Non si stancano mai, eh? Guarda come le chettinolette! No, dai, wolveri. Piccoli wolveri. Noi, dai. Non fa uno, tu. No! Mamma mia, si è salvato per un colpo questo. No, finalmente possiamo rifare una cosa, cari ragazzi. No, mamma mia. Bravo. Ciao, buoni da tutti. Eh, dai. Ciao, il barino è farlo. Ciao, il barino è farlo. Ciao, ragazzi. È stato molto, molto bello. Sarebbe stato molto, molto bello. Che so, ci sono delle signore qui, eh. Ci sono delle signore qui. Ok, me ne occupo io. Allora, il capello viene via, bellissimo. E se no, non lo uso, ma non mi piace. Ma non mi piace troppo. Adesso. C'è solo un colpo. Poi si, dei colpo, vedi? Ce la fanno. Sì, se la fanno abbastanza bene, vedi? Pure lei, quei tanti, bravissimi. Eh? Zitta, zitta, quatta, quatta. Madonna, oh. Controlla nel mondo da qui. E ancora c'è i capelli perfetti, lei. Dopotutto sto casionofà di fogne, cose. Tutti stiati. Tutta pulita. Un vestito di pizzo, ce l'hai capito? Boom. Così, vedi? Eccolo, finalmente. Dai, ci ha messo una decina d'anni, ci ha messo. Per farci vedere. Questo era il carro, ragazzi. Il carro. Direttamente da Downs of the Dead 1. E tutti voi sicuramente ricorderanno i suoi punti deboli. Speriamo di raffredderlo. Ok, ho capito. Ah, sorry. Ok. Oh no. Ma che parola a me? È tuo. Vai, 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 vai. Oh! Come osi fare questo a una signora? Sei cattivo. Mi so. Ma non lo dirai, l'ho visto? Mamma. È come se combierassi le decine. È carattopato questo. Lo è straccio. Oh! Dei lanciarazzetti! Oh, che la ditte, va? Oh, dai, va, zitto, zitto. What for one? Dai. Forza, forza, forza. Altri, altri ancora. Altri ancora con un po' passi in giro. Ma mazzarello! Altro, che ragazzone. È una bestialina. Ok, me ne occupo io. Ok, io, ottimo. Andiamo via. Via, scappate. Scappate, boys. Via, via, via. No, no. Questo addirittura, la version del B2B. È che è stato. Ottimo! Non preoccuparti, guarda, c'è un po' di lanciarazzetti. Ecco te qua, eh? Ti piace questo? E ora, qui è la lanciarazzetti e io è la nata. Stupendo! Dai, dai, che è il nostro. Dai che è il nostro, vai. Questo però, da un software del D1, alla fine diventava scheletrico, eh? Ecco, pure qua. Hai visto tra granate a lanciarazzetti, proprio? L'avevo stordito, eh? Non è che pure io a lanciarazzetti. L'avevo cresimato. Dai, sì. Era l'altra mia scelta. Dai, è bella, eh? Non è bella, devo dire. Anche lui. No, no, è solo lei. Oh! Solo che lui è il meglio, raga. Lui è stato the best. Sì, ma. È il momento, dite? Sempre con l'umanità. Se la sorpresa sempre con il genere umano. Mamma mia. Che siete qua? Sì, ma. Perché? Bello. Carino, 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 carino. Ma tu sei schifo? Con me è stata malattesa. E' stata malattesa. No, perché quando miravo, niente, quando c'era il cerchio non si vedeva. è l'ultima, unice, poi questa è la venuta, io a sto punto granato, mi so più bene e lancia granate se no, per lanciare anzi e lanciare granate dai, la coppia da vincente, lancia qualunque cosa certo la combo essenziale è stata certo che poi lei dove se l'è messa in cesare eh sì è vero, questo nei videogiochi è sempre una cosa un po' così è sempre una cosa stranissima vediamo i signorini cosa volevano o cosa pensavano sta caricata cazzo, scendo lunga ecco sì, ci ricordiamo c'è perché c'è Alessandro là? no, c'è un ragazzo, no, Alessandro sì, certo 7 peccati capitali, io vi ho preso io ho preso la macchina ah, te la dato a te questo sta ancora in vecchio guarda sti immagini questo è il nuovo cattivo c'è una brutta cera, fra ma non sembra un vecchio, sembra un giovane proerughe non sembra abbastanza cattivello, eh il vaso di Pandora, signori, eh finalmente capiremo questo vaso di Pandora cos'è direttamente dal 4 ma se vuoi scendere, non so quindi è un po' a te chissà cosa sarà ah, dove stai? come ho tu? che ti credi? lo stai? e dove guarda i chiavi? dalla macchina? e di altri mattacchioni siamo impegnati guarda ti faccia i zombie, eh perché ci hanno illuminato? perché siamo entrati nell'ascensore ci hanno illuminato oddio oh, fortuna che è semplice da salvare facciare questi? io penso che ho fatto a casa voi siete sempre stati cattivelli voi si sono i pistelli, eh ammazza oh, ok mamma mia, all'ultimo all'ultimo è sempre più bello bello eh, ma solo quello c'è non solo è stato molto ефaticolo ah, che ne parete lì? ragazzi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo bello mi piace, eh e se vi dico che c'era un'altra e poi che si vede che scelto dobbiamo tirarlo in giù se stiamo a divertirsi ah, provate, ricerchiamo che pezzo è il resto? ma saremo tutto qua oddio, no, lui no, sempre lui l'impiccato ma questo è dal primo hanno riciclato certe cose ma poi era l'ultimo del primo no, il secondo del primo l'impiccato il secondo non era il regno? no, no, il terzo era pure questi hanno fatto sempre le stesse cose però la grafica è bellissima però certe cose hanno riciclato una volta da Resident Evil pure e anche dal primo dell'Auto of the Dead che era già un riciclo da Resident Evil è capito a Resident Evil Santa Sica mamma mia che bel rapporto che ha con questi giorni ok questa è la cameretta di Golden dai dai, quasi finito ma guarda che pure gli effetti facciamo un giro? ho sempre avuto bene che lo sapevo oh, ancora lui ok ma è ringioronito noi non prendiamo lui sono passati ventuno nel gioco sono passati otto anni ma che bello questo calciotto ecco lì qua i nostri amici e questo mi mancava questo loro non mi mancavano è vero? ma sono serio porco tu è oh ma attacchioli c'è della frutta c'era ragazzi oh oh perché te fa uno? vuoi burlarlo eh ma no oh no oh no vedete che fa uno no 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 perché? no ma me la cercate ma allora ditelo vai che penso io ora sta stavaghetta no no pure lui ancora è lui è lui perché c'è il loro capo oh fuori vai ancora io vado sti pagode giapponesi sti giapponesane sparo sparo ehi bravi brava non avevo visto che ce l'avano ricaricate ma questa con la barcone c'è due per il gathering a destra ahhh non era bellissimi fatti bellissimi tutti coperti di melba cazzo cazzo il cappello che vola come stai di testa pregamo avete rotto oh che va sai che il tuo compagno è bravo dal momento in cui lanza le granate buon ritmo buon ritmo non vado a forza niente ciao buon ritmo il cappello schelletti no dai eh a voi ormai sono troppi anni che me conoscevo i signori mi sa che siamo arrivati mi sa che c'è una nostra vecchia conoscenza dopo 11 anni ed è diventato più carino che buono una ridicola speranza che parlava anche giustamente si parlava eccola perché gli elicotteri nei giochi horror finiscono sempre male? perché? signori in questa grafica stupenda vi presentiamo l'impiccato punto debole tutto l'importante è non sparare ai pipistretti grande quando te li manda davvero? sì perché il punto debole è l'uso infatti tu fa anche le stesse fa anche le stesse smorche va bene ecco no va bene dovevo ricaricarmi dovevo giusto ricaricarmi amore ok ok si fa anche attacchi radicinati eccolo ok ecco l'avevo ammazzato sei tornata ecco la bello che è è pure un piromane è un piromane guarda che occhiali che ha bravo bravo spara a spruppo spara spara mamma mia parli va proprio cattivo danno ok lo aspetto lo aspetto vado venire vado venire no l'ho preso cosa ha il carattolo ok quindi il fogo non lo aspetto sì no sparano scogli scogli robole maledetto questa è mi è piaciuta ma lui ha perso energia perché gli abbiamo dato il fuoco ma che cazzo è che un matto che è dai finiamo le granate no ho mancato con la granata nel frattempo esplosa la mia granata sempre dei messaggi filosofici benvenuti all'ultimo stage tre volte in passato eh infatti quanti te lo sofferti dando passato? 3.000? è stato uno sfera stile Halloween una volta che ho superato io Antonello siamo un po' arrugginiti si ha ragione siamo un po' arrugginiti un pochetta arrugginiti dove siamo signori profondità della magione alla fine sempre qui siamo rimasti eh beh perché è l'ultimo allora dicevo io ho sempre la Santa Granata che è ottima a Lanciarazzi è perché è una sola eh Lanciarazzia quante ce n'hai? 2 eh che cavolata se no meglio Granata Granata 2 Granate oh che bello no 2 Granate ah Amen ma a saperlo prima 2 Granate metto pure io che due sono buona le orde te le do i miei un cannone non 2 Granata che con gli zombie è ottimo ho visto allora un po' strano eh per rivederci e anche a quest'ultimo Daos of the Dead siamo all'ultimo stage proprio con la mitica tip che ti ringraziamo speriamo passi alla storia anche questo video ora abbiamo la saga completa ci abbiamo tutto oh eccolo che bello un punto onesto ah così proprio mi non... ma lo CT li voglio bene al min5 il dornume di speranza twelve versione dei riferimenti dei capitoli li hanno polisi da begli anni almbrega entro eh eccoci qua non abbiate paura da dentro 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 gli occhi localizzati in italiato questa qua è e continua a sparare basta solo a forza dei granate la sorpresa finale tipo il magiscia qua a questa la cosa bella in mezzo all'acqua fango tutto a posto ma no io mi aspettavo qualcosa a sorpresa ecco questa è mister di venda torna il proprietario della maggiore e mentre dietro questo dice alla fine non salvare questo tutti sti casini sti anni per salvare non è che gli parla del fratello che grazie a lui è morto no gli chiede che cosa vuoi un po' puntuale o li hanno aspettati questo è il posto vitale ragazzi ragazzi l'ultimo boss a sto giro è la luna madonna che bello eccoci qua ragazzi giustamente al piano di una ci rendiamo questo ragazzi qua abbiamo superato ogni cosa qua abbiamo superato davvero ogni cosa ragazzi bello sto caps lock come il mondo a teato of the dead 4 perché sti ultimi boss sono sempre così cattivo madonna fino a sto punto stavo fino a sto punto stavo non mi chiede come avevamo abbiamo ancora diverse granate comunque oh granate a go go bevamo fa che bello questa ci penso io bene ecco le granate a che servono mamma mia cazzivone bello però questo è bellissimo bravo il mondo ora hanno cominciato a parlare conferisci il potere no dai oh e dai così è cattività proprio sono diventati più bravi dai che guarda ma no e cacchi l'ha programmato a sto livello basta eh ancora ok secondo me lo fa a te eccolo 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 che cresce che meraviglia anche se è tutto un'altra cosa dagli altri boss è la meraviglia è la meraviglia del mondo che è tutta sta acqua qua oh no non fa come il tuo fratello che vai a morire porco zio ma se tu c'è vai a se riuscire a trovare questa torretta così buoni cari buoni oh my god oh my god bell'amore che è a carina a carina a carina oh che bastardo due granate stavolta 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 bravati io lo scarico tutto no lo scarrello allora un cuore anche lui hai aggettato l'arma no no pazzo è pazzo eccolo non ha capito è avviato brava ma perché doveva sparare però non l'abbiamo l'hai presa ma ci ho avviato in due questo ha avviato guardo io eri tu ma non è troppo facile sì esatto troppo facile cosa è incazzasolo del mio ora diventa freezer è pure un fogano no 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 io ci credo no no qua non mi sei piaciuto agli altri almeno moriva qualcuno agli altri succedeva qualcosa uscirà qualcosa cioè questo ha solo fatto il matto è volato e l'ha scondato non è così tranquillo no 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 ragazzi no dai schifo dai astruzzi dovrebbe esserci il finale qua come ho detto a Osho of the Dead ci dovrebbe essere un finale alla fine che ti fa capire tutto vediamo un po' non ci ha piaciuto troppo questo finale ma il resto era bellissimo al finale non si può vedere c'è pure il signore che abbiamo incontrato alla fine che ha fatto tutto con lo sproloquio l'umanità delle morire ci sarà una nuova specie fine non so da che fine ha fatto niente così non è così non è così no il resto è molto bello dal 2014 stanno lavorando ragazzi onore e gloria siamo comunque una prossima di saga vediamo che si faceva una sigla una nuova di Pietro ok ah vedi lui è rimasto in vista attenzione continua addirittura questa è bella la saga non finisce ragazzi molto molto bello allora dai siamo andati bene alla fine ma ce lo dà alla fine per tutto allora vabbè se è un Deus obbedente di passaggio ci posso stare però così beh c'è stata brava pure tu vabbè a te era starata comunque bello 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 sei terzo che vuol dire risultati al GFG no perché sicuramente siamo i primi che hanno finito il gioco e quindi in classifica compariamo noi beh ragazzi dai è stato abbastanza carino dai possiamo dire sempre un Deus obbedente per carità però forse potranno fare qualcosa di più vedi che in classifica saremo i primi e i secondi dicevo settimi e gli sei terzo tu non riesci a tu terzo e gli uo settimi sono lato bello 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 nello vuol dire che è Grazie a tutti